We Are è il progetto che punta a promuovere il modello reggiano di sviluppo a misura d'uomo, lo fa abbinando appunto alla realtà della nostra provincia quello che è Expo 2015 e tutto quello che comporta la grande manifestazione internazionale milanese. Reggio è a pochi chilometri di distanza e soprattutto a pochissimi minuti dalla città meneghina e proprio per questo può offrire grandissime opportunità. Lo fa per esempio con la mostra Noi ai musei, una mostra dove la storia di Reggio, della città, della sua gente è rivisitata sotto tanti punti di vista, da quello ambientale a quello socio-economico, passando dalla cultura e ovviamente anche dall'aspetto culinario che è una delle basi fondamentali proprio della vita di noi reggiani. Intanto complimenti per questa iniziativa che è l'inizio formale ma sicuramente anche un punto di arrivo e di ripartenza di un grande lavoro che la città di Reggio Emilia ha fatto in questi ultimi anni. Tutta la regione Emilia-Romagna e in particolare il territorio di Reggio Emilia vanta tradizioni secolari in termini di alimentazione e di nutrizione oltre che grandi tradizioni culturali, di scienza e allora era più che logico pensare che già da tempo si iniziasse un percorso verso Expo. Davvero un in bocca al lupo per tutto e grazie per esserci soprattutto. È una bellissima giornata in cui abbiamo inaugurato qui al museo dopo un anno di lavoro molto impegnativo questa bellissima mostra, noi, che racconta ciò che siamo, che consentirà credo a tanti reggiani di riscoprire, di identificare molto di se stessi ma che ci consentirà anche come reggiani di raccontarci al mondo ed è anche un modo come tanti, tra i tanti, per raccogliere la sfida di Expo proprio oggi durante la conferenza di presentazione ci siamo collegati direttamente con Milano abbiamo ricevuto proprio l'appoggio, il sostegno e l'apprezzamento proprio dai vertici di Expo a Milano. Noi abbiamo fatto questo lavoro in questo anno con la convinzione di far crescere la città nella consapevolezza della sua forza e soprattutto della sua capacità di promuovere se stessa all'esterno e nel mondo. Quello che viene raccontato qui all'interno del Palazzo dei Musei è un po' la sintesi di tutto questo la sintesi di ciò che siamo, delle nostre radici ma anche della nostra propensione a innovare, a cambiare a metterci continuamente in gioco. Credo che ci siano tutte le condizioni perché facendo insieme questa strada possa essere percorsa con successo nella nostra città. Noi è una narrazione corale, è il tentativo di raccontare un territorio sempre più complesso e denso attraverso frammenti di storie, non costruendo una narrazione cronologica dall'inizio alla fine ma mescolando le storie perché tutte le storie sono presente e futuro. Noi è un laboratorio che è il territorio reggiano, un laboratorio dove da sempre si produce innovazione, si produce cultura, si produce territorio e tutto questo è sempre stato fatto insieme, insieme da comunità diverse che lungo i secoli hanno perfezionato, migliorato ogni volta gli stessi prodotti pensando che non bastasse mai e cercando di migliorarli continuamente. Noi è una mostra laboratorio, è una mostra che comincia con le storie di acqua e di terra perché senza bonifica di agricoltura non ci sarebbe questo territorio, con le comunità degli animali perché senza gli animali non ci sarebbe trazione e alimento, è narrazione, mappe, mappe storiche, mappe contemporanee, bellissimi disegni, fotografie, è storia di comunità con decine e decine di immagini delle comunità reggiane dall'Ottocento a oggi, sono i ritratti dei personaggi contemporanei, è il mondo del lavoro che produce futuro nella meccatronica, nella meccanica, nella agricoltura, alimentazione e nell'ambiente ed è infine una grande tavolata che è la rappresentazione dello stare insieme, del mangiare insieme, del gustare e il sapore insieme affiancata alle quattro sezioni dei consorsi, il mondo del maiale, il parmigiano, il lambrusco e l'aceto balsamico. Tutto questo per raccontare un mondo e per invogliare poi chi verrà qua a scoprirlo e andare nel territorio a vederlo direttamente. Io amo il maiale perché ho scoperto che viene utilizzato tutto, oltre a essere buono, il maiale è anche bravo perché si fa come dire usare e dal maiale nascono un'infinità di prodotti straordinari, per me questa camera è il top di questa esposizione. Iniziativa lodevole stanotte ai musei civici Reggio Emilia, eventi di questo tipo creano veramente un'atmosfera magica nella città e sono sicuramente attività da replicare più frequentemente nella città. Tanti giovani, tanti interessi e finalmente tanta gente ai musei civici. È una mostra bellissima e le foto che ho visto di Reggio Emilia mi hanno colpito un casino e le consiglio a molte persone. Bella, interessante, mi ha comunicato lo spirito della città, non sono di Reggio e da vedere. Trovo molto divertente la scheda di Ermanno Cavazzoni, è molto interessante l'allestimento, credo che sia molto chiaro e di forte impatto. È una mostra che è molto interessante perché racconta delle nostre tradizioni in un modo un po' insolito perché magari mangiamo l'erbazzone senza mai riflettere su come viene fatto sulle nostre tradizioni. Quindi è molto interessante. A me è piaciuto molto l'approfondimento sul cibo, sulle nostre ricette tradizionali e anche il fatto che siano scritte in inglese perché comunque magari per chi viene dall'estero così può vedere e capire meglio di cosa si tratta. Anche magari per l'Expo, per appunto far vedere anche agli altri le bontà di casa nostra. Il museo è luogo per Antonomasia dedicato a custodire la storia di grandi e piccole comunità. Ecco, allora che cosa c'entra Expo con Reggio Emilia e con questo museo nel cuore di Reggio Emilia? A Reggio Emilia abbiamo da un anno un nuovo museo, un nuovo museo che vuole farsi portatore della memoria della città ma che sente come obbligo fondamentale trasmettere questa storia, questi contenuti alla città di oggi, al pubblico di oggi, ai giovani di oggi. Quale occasione migliore di Expo per sperimentare questo nostro obiettivo? E così, in questa mostra, che forse sorprenderà molti, troviamo testimonianze della storia del passato unite a volte proprio anche poste a diretto confronto con testimonianze che parlano di un oggi che è già futuro. Quindi abbiamo voluto proprio creare questo corso circuito fra la storia, la storia anche più antica e le prospettive con cui la nostra città si affaccia oggi con competitività in un contesto dell'innovazione anche internazionale. È stata l'occasione anche per sondare il patrimonio della città e alcuni materiali provengono dalle nostre collezioni, dai nostri depositi, ma abbiamo fatto alcune scoperte riteniamo importantissime. Qua alle nostre spalle c'è questa mappa di Marcello Nizzoli, protagonista del design che tutti conosciamo perché abbiamo più o meno usato una delle sue famose macchine da scrivere. Questa era un'opera che era nella bonifica di Corso Garibaldi ed è stata commissionata proprio per documentare questa importante attività delle bonifiche reggiane verso il territorio. Qua di fianco ci accoglie il busso di Natale Prampolini che è stato il grande iniziatore di questa importante campagna di bonifiche. Ma qua invece andiamo indietro, andiamo al passato, il passato è più remoto, mappe del 500, del 600, del 700, ci parlano di un territorio in cui l'acqua aveva anche una presenza molto diversa da quella di oggi. Questo per quanto riguarda il territorio, ma anche poi per quanto riguarda la nostra città, che era tutto un dedalo praticamente di corsi d'acqua che creavano poi un'economia basata sull'arte della seta e su altri segmenti di questo tipo. Abbiamo anche delle novità importanti, questo per esempio è una parte dell'acquedotto romano rintracciato un paio di anni fa, la cosa aveva fatto anche molto scalpore, nella zona dietro l'ospedale Santa Maria Nuova. E quindi questo emblema della questa nostra reggianità che già ai tempi dei Romani si misurava con l'esigenza di una razionalizzazione, di creare servizi di pubblico utilità, abbinato a immagini che rappresentano l'impegno oggi verso l'acqua di Iren, con anche questo contatore che in modo anche innovativo consente di verificare con molta semplicità il livello delle acque di tutto il nostro territorio. Diamo ora uno sguardo a quelli che sono gli appuntamenti nella settimana dall'8 al 14 giugno per quanto riguarda l'agenda di Reggio per Expo 2015. Sino alle 12 giugno al Teatro Valli, al Teatro Cavallerizza, Festival del Quartetto d'Archi, un viaggio nella musica da camera con quartetti e solisti celebri dall'Italia e dal mondo. Il 12 giugno dalle 17 alle 24 alla centrale idrica Iren di Reggio Est, Notte Blu con DJ set, ristorazione e su prenotazione anche visite delle vasche della Torre Serbatoio a cura di Iren. A Palazzo e Piazza Casotti, sin alla fine di ottobre, le contrade di Bengodi, festa delle eccellenze d'Italia. Tante le iniziative per grandi e bambini, mostre, laboratori, cinema, dibattiti. Vi segnaliamo in particolare venerdì 12 giugno dalle 19.30 coltivare la città, teorie e pratiche di agricoltura urbana. Il 13 e il 14 giugno ad Albinea, 43esima Gran Fondo Ciclistica Cooperatori Terre di Lambrusco Cantina Albinea Canali, competizione ciclistica tra sport e culture e gastronomia. E poi in chiusura vi ricordiamo la mostra che si tiene a Palazzo dei Musei, nuove storie di comunità, idee, prodotti e terre reggiane. Per il programma completo degli eventi, comunque di Reggio Emilia per Expo, vi rimandiamo al sito internet www.reggioexport2015.it. www.reggioexport2015.it.it